Il DEMOCRATI Il DEMOCRATI Hoppe did not do anything about its democracy I'm doing it I'm Ben Radin I found that this was a really good idea to start the democratic makeup Io sono un vantaggio che vengono da altri paesi in Norge. Noi non vediamo le regole e le regole in Norge. Io sono un vantaggio che vengono a le regole e le regole in questo paesi. Io sono un vantaggio che vengono a questo progetto perché ci sono diversi in questo paesi. Ci sono diversi. Quindi credo che è molto importante per me e per altri. Quindi ho l'inizio di andare a la biblioteca. Io credo che è importante che insegna più di la democrazia. Sì, anche, ci sono un discorso che ci sono più difficili. Io credo che sia l'inizio di cose. Io credo che sia un'unica per tutti, per fare il comune dei bambini, ma se un'unica per un'unica è democratica. È un'unica per il comune di abastanza. Una cosa che si chiara per un'unica per un'unica per l'unica. e studiare molto sui di norsche, discutere demokrati e systeme di stessa. E' fantastico per Arndal Voksenopplaiare che si può avere un tipo di tipo di scoliblioteca e si può andare a l'arndal biblioteca. Quindi è davanti per l'armbiare con loro.